Assessore, la Cirfood chiede 10 milioni di euro di risarcimento danni al comune di Pescara. L'amministrazione adriatica a cosa risponde? Mi verrebbe da dire, oltre al danno la beffa, la Cirfood chiede un risarcimento danni perché noi, dopo la triste vicenda che ha colpito i nostri ragazzi per la riflessione scolastica, abbiamo rescisso il contratto. Abbiamo fatto l'interpello per chiedere alla seconda nella graduatoria fatta nel 2015 relativa al bando di poter aderire al servizio e stiamo aspettando la formalità degli atti. Crediamo che la ditta debba andarsene, chiedere scusa, cosa che non ha fatto fino ad oggi, ai bambini, alle famiglie e alla città di Pescara e non chiedere risarcimento danni. Noi ci tuteleremo in tutte le sedi anche perché, oltre al danno per i bambini, le famiglie e l'ente comunale che è parte l'ese in questa vicenda, c'è uno gigantesco danno d'immagine che abbiamo subito a livello nazionale per essere balzati alla cronaca per questa triste vicenda. Ci tuteleremo in ogni modo, tuteleremo i nostri ragazzi e stiamo procedendo con tutti gli atti per far ripartire il servizio mensa ad ottobre e per dare anche nuove opportunità. Dal proposito, la settimana prossima partirà il nuovo anno scolastico, ci saranno problemi per il nuovo servizio mensa e quando partirà? Solitamente il servizio mensa parte nel mese di ottobre, quindi stiamo lavorando per rispettare questa procedura e quindi per essere pronti alla partenza dell'anno. Incontreremo nella giornata di domani i presidi, poi incontreremo i genitori e i loro rappresentanti con cui abbiamo costruito questo percorso. Stiamo tutti dalla stessa parte e vogliamo garantire ai nostri ragazzi e alla città un servizio di qualità, un servizio adeguato e tutelarli in ogni modo perché questa vicenda sicuramente non finisce qui.